2.000 anni di vita per la strada dei Romani, il tracciato di 770 km risale al 15 a.C. e collega la Baviera all'Italia arrivando vicino a Venezia. Oggi la via Claudia Augusta, che compie 2.000 anni, è percorribile in bicicletta e con tratti a piedi in un percorso suggestivo tra valiche alpini e vestigi antiche. La porzione di strada del Tirolo austriaco è ricca di reperti archeologici come resti dell'antica strada romana e di antiche postazioni per i cavalli. Il percorso coinvolge anche il gusto con 28 ristoranti che aderiscono con menù speciali legati alla tradizione locale ma anche ispirati alla cucina di 2.000 anni fa. Tra le curiosità proposte dal percorso è la possibilità di effettuare tratti a bordo di storiche carrozze postali.